Amici di Vivi Mazzara, buongiorno. Stamane abbiamo in studio Mariko Ops, candidata al Regionali, si vota il 25 settembre. Lei è nella lista popolari e autonomisti per capirci meglio il simbolo dove c'è il gabbiano. No, non è un gabbiano, è una colomba. Ah, è la colomba, com'è che si fa a dire gabbiano? Guarda questa è la canzone, il rumors dell'estate che ci ha portato a parlare del gabbiano. È un simbolo importante perché intanto buongiorno. Buongiorno Mariko, buongiorno hai fatto colazione, adesso prenderemo il caffè di mattina. Il caffè serve, serve, serve. È un simbolo importante perché ha riportato i colori della bandiera siciliana e la bandiera siciliana deve ritornare ad essere orgoglio per questa terra, orgoglio per i cittadini che forse finalmente devono cominciare a guardare a quel Parlamento come l'opportunità di un ritorno all'identità di un popolo che dalla sua classe politica è stata trattata male. Noi oggi abbiamo detto, mi hai detto che c'è poco tempo perché c'è un grande evento in città, una conferenza stanza importante. Si aspetta il giuramento dei neoassessori e della nuova giunta comunale a Mazzara del Vallo per le ore 12 e tu sei il primo candidato, la prima signora che veste il ruolo di candidata alle regionali che può magari dare un'esternazione, essendo anche tu mazzarese, di questo rinnovo della giunta quinci. E' un evento che arriva in maniera sorprendente, in realtà ieri ho impiegato buona parte della giornata a rispondere al telefono ad amici che come me guardano la politica con interesse e che si domandavano come me fra l'altro la motivazione di questo rimpasto, perché non credo possa ritenersi a zeramento, insomma le dimissioni che dovrebbero, che sono volontarie per carità, che chiedono chiaramente un reinserimento della figura istituzionale assessoriale, in un momento come questo ha lasciato perplessi. Le giunte e le amministrazioni generalmente cambiano o vivono del riflesso politico di un'elezione. A chi non è addetto ai lavori è chiaro che se arriva un presidente di regione del centro-sinistra e allora un'amministrazione tende a spostarsi, per esempio, così come se arriva un governo regionale di centro-destra, allora un'amministrazione cerca di spostarsi per politicizzarsi in qualche maniera. Il farlo prima delle elezioni, prima di un risultato elettorale è quello che lascia perplessi, al di là delle persone che più o meno possono avere un'esperienza amministrativa, quindi ruoli assessoriali già ricoperti. Ciò che lascia perplessa è proprio la motivazione di un cambio assessoriale in questo momento a sette giorni dal silenzio elettorale. Ce lo domandiamo tutti, ma ce lo domandano soprattutto i cittadini. In un momento in cui la città ha priorità diverse, in cui la città è in sofferenza assoluta, in cui un imprenditore che decide di aprire un'attività commerciale e nel momento in cui affitta il locale o compra il locale e attiva il contratto dell'energia elettrica e ancora prima di aprire si vede arrivare una bolletta che non sarà in grado probabilmente di sostenere nell'immediatezza dopo un'altra, senza ancora avere battuto uno scontrino. In un momento in cui un primo cittadino, una giunta, un consiglio comunale dovrebbe stare accanto ai propri cittadini, di difficoltà immensa legate a quelle che sono le infrastrutture di questa città, che ha vissuto un'estate tra le più silenziose sotto tutti gli aspetti, un momento economico difficile. La politica non può comportarsi in maniera irresponsabile, deve guardare con attenzione ai propri cittadini, ai figli di questa città e non può la politica diventare momento elettorale. Il momento elettorale arriva e è in questo momento, la politica sarebbe dovuta arrivare dopo, se la politica arriva contemporaneamente al momento elettorale lascia tutti perplessi perché può significare tutto e il contrario di tutto. Essendo tu candidata a queste regionali, ricordiamo si vota il 25 settembre, siamo già quasi arrivati, che si vota la prossima settimana, questo avvenimento politico, chiamiamolo così, molto anche chiacchierato sui social, pensa che a te nel ruolo di candidato, a te come agli altri, possa subire delle devianze, delle destabilizzazioni, anche involontarie, o un disturbo nelle campagne elettorali dei candidati? Certo, un evento come questo che ha lasciato, ripeto, tutti perplessi perché si vociferava nell'ambiente politico, ma ripeto, è anche una prassi, qualcosa del genere accadrà nelle altre città delle province, come così nelle altre città delle altre province, sono fenomeni che si verificano dopo le campagne elettorali, soprattutto regionali, un po' in tutte le amministrazioni. È il tempo che determina questa perplessità da parte della città. Quanto inciderà nel risultato elettorale dei vari candidati, non sta a me dirlo, non sta a me valutarlo, è chiaro che, ripeto, la presenza di uno piuttosto che un altro esponente politico determina uno spostamento in una direzione rispetto che un'altra, però è chiaro che a fronte delle dimissioni di alcuni assessori c'era la necessità di andare a ricoprire i ruoli assessoriali. Il parlare oggi del rimpasto di giunta o comunque del rinnovo di questi ruoli assessoriali magari può spostare l'attenzione anche rispetto alla campagna elettorale e alle regionali che noi candidati di Mazzara stiamo affrontando con grande dignità e correttezza. A proposito di campagna elettorale, è chiaro che dobbiamo sapere noi, tutti quanti, quelli che ti guardano, anche noi di Mazzara, come prosegue la tua campagna elettorale perché in qualsiasi ora ti chiamo sei sempre occupata, sempre impegnata, parli con la gente, come abbiamo sempre detto, tanti incontri con tanti gruppi, tante associazioni, non solo di Mazzara ma soprattutto di fuori Mazzara. Allora, Mariko Ops, come continua a muoversi in questo momento di propaganda elettorale? La campagna elettorale si sviluppa attorno al ruolo che hai sempre avuto, per cui è chiaro che se sei un amministratore locale e quindi un consigliere comunale piuttosto che un presidente di consiglio, la gestisci in quella che è la tua dimensione in cui hai orbitato fino ad oggi. Se invece sei un dirigente di partito, un ex dirigente di partito e quindi hai avuto modo e maniera di vivere le altre realtà amministrative, vivere gli altri comuni, gli altri 24 comuni della provincia, allora ti interfacci con tutta una serie di realtà diverse. Il mondo delle associazioni, il mondo dell'imprenditoria, che ripeto, vivere in grande sofferenza. La mia passione, che sono i mercati, noi con un gruppo di giovani che forse sono stati tralasciati un po' da questa campagna elettorale da parte di tutti gli altri candidati, con un gruppo di giovani andremo a fare il classico porta a porta per presentare la candidata, lo faremo mercoledì, giovedì, venerdì. La campagna elettorale che mi vuole raccontare come una persona, una donna, che ha deciso di fare politica perché è la sua passione e che vive la politica in maniera completamente diversa da come la si vive normalmente, lontano dai potentati, questo sia chiaro, molto vicino alla gente, molto vicino al consenso della gente, soprattutto di quelle persone che non si sentono rappresentati da chi ha avuto già l'occasione di potere rappresentare e l'occasione di potere rappresentare, parlo chiaramente di ruoli istituzionali di deputazione regionale, piuttosto che di ruoli assessoriali regionali, piuttosto che di presidenze di consiglio, piuttosto che di consiglieri comunali, per cui chi come me ha sempre fatto politica ma non ha ancora avuto l'occasione di potersi assumere quelle responsabilità che un politico deve assumersi e che quindi non si ritiene responsabile, ma anzi nonostante non avere ruoli istituzionali ha portato in molte occasioni soluzioni, questo rappresenta il mio elettorato, quell'elettorato che si rende conto che c'è un modo diverso di potersi approcciare la politica. Poi è chiaro che la campagna elettorale è stancante ed entusiasmante allo stesso tempo, io stamattina guardavo la fotografia sul facsimile e la mia faccia allo specchio obiettivamente si comincia a sentire, siamo a sette giorni dal silenzio elettorale, sono gli ultimi sette giorni in cui ognuno di noi deve essere invitato ad una riflessione, partendo dal presupposto che il voto del singolo determina l'elezione, è una campagna elettorale, continuo a dirlo, un po' simile alle amministrative, c'è poco tempo, devi raggiungere tante persone, ad ognuno di loro devi portare la motivazione per cui è importante innanzitutto andare a votare. Io continuo a dire che la politica o la si fa o la si subisce, io non ho mai subito niente nella mia vita, ho sempre cercato di determinare quello che mi circonda, se una cosa non mi sta bene ho sempre provato a cambiarla, a cambiarla da dentro, a cambiarla da fuori, ricordo ad esempio la mia battaglia, me l'ho fatto ricordare l'altro giorno una signora, di quando ho fatto una raccolta firme, una cosa piccola sembrava all'inizio, la raccolta firme davanti alla scuola di Santa Gemma per chiedere alla dirigente la possibilità della settimana corta e allora fu una battaglia che portammo avanti e che vincemmo e che ha determinato poi effettivamente a Mazzara, ma anche in altre località, l'avvio di quella che oggi è una bellissima realtà che consente alle famiglie di poter stare insieme il sabato e ai ragazzi di potersi riposare un giorno in più, che appunto era la settimana corta, ma che nacque da lì, dall'esigenza di una madre e che guardava la figlia e che insieme ad altre madri ha portato avanti una battaglia che abbiamo vinto. La politica che ripeto bisogna fare e non subire, viene fatta anche nei piccoli gesti, nella quotidianità di ognuno di noi e la politica la fa l'elettore nel momento in cui si reca alle urne e fa la scelta di rappresentanza e di rappresentatività. Ecco, intanto se avete sentito il rumore sappiate che la macchina del caffè è in azione, perché è chiaro che un buon caffè ci vuole in questo momento. È sempre bello sentirti parlare perché in te si evince quella voglia di assumerti le responsabilità e farti portavoce dei cittadini alla regione in questo caso. Se la gente ha scelto di seguirti, se la gente vuole incontrarti e tu aggreghi, in te c'è qualcosa che tiene amato. Allora, sarà la forma caratteriale, il tuo modo di esprimerti. È chiaro che per entrare in politica non è che ci si sveglia dall'oggi al domani, ci vuole anche una preparazione, non solo i numeri nelle urne in fase di scrutinio finale, per cui la preparazione in politica è fondamentale, saper leggere le carte è fondamentale. È fondamentale anche non essere silenziosi, perché è chiaro che bisogna farsi sentire per il bene dei cittadini, anche di quelli che non vanno a votare il candidato che probabilmente andrà a sedere all'Ars a Palermo. Per cui tu sei quelli identikit di persona, oltre ad essere una donna, sappiamo che le donne in politica sono molto meticolose e precise, oltre che nella vita comune. Per cui Maricò, ti identifichi in questa persona che ti ho appena detto mentre arriva il caffè del mattino? È in tazza azzurra sempre. È in tazza azzurra, perché ormai è segnalata. Ecco, io prendo quella sempre giallo come il sole della Sicilia e come lo splendore anche della tua persona che rappresenta. A te il colore azzurro nazionale. Continuo. Che si abbina con il tuo look della giornata. Beh, oggi siamo di azzurro. Continuo a dire della necessità in questa campagna elettorale di parlare di temi, di parlare di argomenti, di andare oltre quel tipo di campagna elettorale a cui si è abituata quasi ormai la città soprattutto, perché è un modus operandi che in realtà nel resto delle città della provincia è quasi inesistente. Io sento, in realtà non sento candidati discutere, affrontare, immaginare riforme, proporre decreti legge, ad eccezione di quella che potrebbe essere la deputazione uscente che chiaramente ha una competenza acquisita nel corso del tempo, ma per il resto mi domando e mi chiedo, io continuo a chiedere un confronto fra i 12 candidati di Mazzara del Vallo. Ne farò uno a Trapani. Compronto? Farò un confronto a Trapani rispetto ad una tematica, qualcuno mi ha detto che sono veramente tanto coraggiosa, io certe volte mi ridefinisco incosciente in realtà, però l'ho sempre chiesto, giusto per poter far comprendere quanto impegno c'è dietro questa candidatura e ci sarà un confronto dove ci saranno sostanzialmente tutti i deputati uscenti e assessori della provincia che è io. Per cui sarà un bel momento in cui si parlerà di alcune tematiche locali tra panisi. Questa dimostrazione... Ti piacerebbe fare un confronto con gli altri candidati di Mazzaresi per il regionale? Cioè non una contro 12, ma anche studio. Noi mettiamo a disposizione lo spazio elettorale offerto da Vivi Mazzara per un eventuale confronto. Cioè vogliamo lanciare da questo studio di Vivi Mazzara un confronto con qualcuno che si vuole offrire qui in studio e con te, Mariko? Ma guarda, io... Un confronto politico ovviamente. Ne abbiamo parlato la scorsa volta, se non ricordo male, ne abbiamo accennato. Ho detto che siamo 12 candidati. L'idea di presentarci in tutti e 12 è di raccontare intanto il loro percorso dentro un partito. Che senso ha per loro il partito che rappresentano. Raccontare quello che c'è dietro appunto un partito, l'aspetto valoriale, ideologico e quindi il perché un simbolo piuttosto che un altro. Dopodiché di dare la loro visione di amministrazione regionale, di quello che questo governo dovrebbe immaginare di poter fare, di quali assunzioni di responsabilità deve avere un Presidente, perché io continuo a dire che per esempio una delle riforme che andrebbe immediatamente attuata e immediatamente immaginata è la riforma sui rifiuti. Quell'assunzione di responsabilità rispetto alla presenza più o meno di uno o due termovalorizzatori di cui il governo precedente dimissionario, in un momento storicamente come questo dimissionario faccio notare, non si è voluto assumere responsabilità. Ecco, ascoltare gli altri candidati rispetto a temi, rispetto a idee, rispetto a quelli che possono essere la loro predisposizione ideologica per il contenitore che hanno deciso di sposare, questo con due minuti a testa, sono convinto che sarebbe un bel momento di confronto che potrebbe fornire alla città lo strumento per decidere che possa andare oltre quel voto di struttura che molti dicono di avere, perché quando qualcuno mi dice, beh ma io ho 100 mila amici per cui sono loro che mi fanno la campagna elettorale, io ho 40 mila amici in questa città e sono i cittadini di Mazzara del Vallo, che sono cittadini coscienti e non stupidi come qualcuno immagina di poterli fare passare. Bisogna prestare attenzione a queste elezioni, perché è un'elezione già di confusione, le elezioni politiche, le elezioni regionali fatte contemporaneamente determinano la presenza di tre schede e tre schede che sono con colori diversi determinano le elezioni di un tipo piuttosto che di un altro, quindi la scheda gialla al Senato, la scheda rosa alla Camera, la scheda verde alla competizione regionale. Io sono candidata al Parlamento regionale, si può scegliere il mio nominativo sulla scheda verde e questo lo dico e lo ribadisco per evitare le confusioni di qualcuno, dei 100 mila amici di qualcun altro ed evitando questo io credo che si possa continuare con campagna elettorale corretta per come è stata fino ad oggi. Ecco, per cui fate attenzione, questa può essere anche una destabilizzazione o una devianza. Ricordate che chi è in lista alle regionali, e qui lo è la Presidente Maricò, attenzione, scheda verde, non fatevi deviare da altri che vi dicono no, votate questo tizio in questa scheda, l'altra lasciatela qui, votate me, perché è tutto chiaro e trasparente, scheda verde per le regionali, ci siamo? Questo è fondamentale, poi andate nel simbolo dove c'è la colomba, specifico colomba, popolari e autonomisti, e poi dopo aver messo la X nel simbolo scrivere Maricò. È semplicissimo, attenzione, scheda verde. L'attenzione va posta sulla scelta, sul motivo per cui scegliere un candidato piuttosto che un altro. E quando mi si dice, continuo a dirlo, che ci sono 12 candidati a Mazzara del Vallo, sì è vero, ci sono 12 candidati a Mazzara del Vallo e le ambizioni di ognuno non devono essere mai stroncate, quindi se ci si sente in grado di competere per un seggio all'Assemblea regionale, piuttosto che al Senato, piuttosto che alla Camera, è giusto e doveroso che ognuno di noi ci provi e il risultato sarà scrivibile ad un tipo di elettorato. Detto questo, quando mi si dice che sono 12 candidati, ricordo che gli statisti della politica locale raccontano di una città che dovrebbe portare al voto circa 23 mila elettori. 23 mila elettori possono determinare l'elezione di almeno tre deputati, se la scelta risulta essere utile. E ritorno al discorso del voto utile, di quel voto che deve essere rappresentativo non più di un territorio, perché il territorio è una parola talmente tanto abusata, ma di una collettività, di una comunità che va oltre Mazzara del Vallo e che deve guardare all'intera provincia. Perché quando si andrà a parlare di infrastrutture in regione Sicilia, non si parlerà soltanto del ponte sul fiume Arena, la cui responsabilità ricade sull'ex provincia, che ricordiamo ex provincia o quantomeno provincia, che è stata nel far finta che si sarebbero abbattute le spese, determinata nella fine delle province appunto da un governo di centrosinistra e che oggi vede la presenza di un commissario. È chiaro che il ritorno alla politica, per esempio una delle battaglie portere avanti e che credo che è volontà di un governo di centrodestra, è quello della riabilitazione delle elezioni provinciali che consentono al cittadino di dare la responsabilità politica e non più commissariale ad una provincia che in questo modo continuerà a lavorare. Come vogliamo chiudere? L'ultimo tuo passaggio e poi, sai, voglio fare un po' il Gigi Marzullo della situazione. Io ogni candidato a volte mi invento qualcosa. Allora, tu hai messo su il ventaglio, il ventaglio della speranza, come il colore della colomba simbolo dei popolari e autonomisti, il bianco, no? Allora, il bianco verità, il bianco trasparenza e il bianco pace. Però, Maricò, fatti una domanda e datti una risposta. Chiudiamo così oggi, perché poi avremo le altre interviste la prossima settimana. Tanto la gente inizia a conoscerti, perché la tua presenza si avverte in città o attraverso i manifesti, le sezioni, le tue presenze qui e in altre redazioni. Già questo è un segnale molto importante. Tu parlavi di 12 candidati, ma ci sono candidati di cui non si conosce nemmeno l'esistenza mediatica, la gente nemmeno sa chi sono. Ti lascio immaginare. Ci sono però candidati che non dicono nulla, non raccontano nulla e non hanno una visione né politica né amministrativa, però hanno grande contezza elettorale. Allora, la mia domanda è sulla base di quale principio un cittadino sceglie un candidato piuttosto che un altro. E questa non è una domanda che mi pongo io, perché io giorno 25 di settembre andrò di prima mattina, la buon'ora, a votare e farò la mia scelta, che chiaramente immaginate tutti alla faccia del voto segreto, sarà la scheda verde, la X su popolari e autonomisti, il simbolo dove c'è la colomba e scriverò Maricò. La domanda che faccio ai cittadini è di chiedersi per quale motivo stanno scegliendo un candidato piuttosto che un altro, ricordando ad ognuno di loro che quello che è un diritto non è mai una gentile concessione, un diritto è un diritto e non serve nessuno per ottenere il rispetto di quel diritto, perché basta chiedere alle istituzioni e le istituzioni daranno. Grazie Maricò, oggi voglio stringerti la mano perché mi piace sempre di più e spero che indipendentemente dalla campagna elettorale, nelle successive trasmissioni di Vivi Mazzara dopo il 26 settembre, con un po' di frescura in più in redazione, mi farebbe piacere averti più presente con noi e parlare anche della vita della città. Per cui grazie Maricò, buon proseguo della tua campagna elettorale, grazie a te. Grazie a voi.